Partiamo dalla notizia dei giorni scorsi dell'aggressione ai Krampus da parte di un gruppo di giovani a Levico per fare un ragionamento più ampio sul disagio giovanile. Ne parliamo con Roberta Bommassar, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Trentino. La vita è già abbastanza frenetica di suo. Le notizie che più ti interessano le inseguiamo noi. Benvenuta a Trentopi, grazie per essere qui. Le chiedo prima di tutto di presentarsi. Buongiorno, grazie per l'invito. Io sono Roberta Bommassar, psicologa e psicoterapeuta. Sono la presidente dell'Ordine degli Psicologi della provincia di Trento e sono anche referente del gruppo di lavoro Infanzia e Adolescenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine. Partiamo subito dalla notizia del Trentopi sull'attacco ai Krampus. e generalmente appunto i Krampus attaccano, rincorrono i bambini per fargli del male, per spaventarli. Ha dichiarato recentemente che alcuni di questi atteggiamenti aggressivi possono essere interpretati come una ribellione nei confronti delle autorità. Cosa intende con questo? È che i Krampus storicamente, come mito in qualche modo, rappresentano una parte potente che è quella legata all'istintualità, alle parti molto più profonde e primitive che sono contenute in ogni persona, in ogni individuo e quindi da un punto di vista della mitologia rappresentano questo aspetto dell'umanità e lo fanno attraverso una ritualità che è quella di vestirsi con queste maschere spaventose e intimorire il pubblico che vede in questo proprio questa rappresentazione molto primitiva ma che fa paura, quindi è un'autorità in questo senso, rappresenta una parte potente dell'umanità. E quindi in quel gioco dei Krampus che li rappresentano e solitamente passano attraverso delle ali di popolazione, di cittadini impauriti e c'era sempre stato qualcuno che ha ingaggiato una lotta, provocandoli, facendo delle provocazioni. In questo caso si è esagerato, cioè come se si fosse tentato di rovesciare i ruoli, no? I Krampus che fanno paura, io ho paura di Krampus, non va bene, cioè trasformo questo ruolo e sono io che faccio paura di Krampus e in qualche modo ha avuto anche questo effetto. Quindi è stato un attacco ad un mito, diciamo così, è un aspetto mitologico della società, di queste rappresentazioni culturali, insomma. Questa notizia ha ricevuto un grandissimo spazio all'interno anche del panorama giornalistico nazionale. Secondo lei ha una rilevanza tale da poterne discutere anche per essere usata come esempio anche dell'elisaggio giovanile oppure c'è un'altra motivazione? No, io credo che, e questo ha il potere dei social, anche un episodio che può essere banale viene amplificato, so che sono state riprese anche a livello nazionale. Io non credo che questo episodio abbia una valenza che ci permette una lettura di tipo sociologico o psicologico riguardo ad esempio ad una fascia giovanile sempre più violente perché i dati che ci vengono dati dall'Istat, che sono quindi dati ufficiali, ci stanno dicendo che questa generazione non è una generazione più violenta da quelle precedenti. Può essere stato molto, come dire, seduttivo e affascinante questa cosa perché è stato un attacco ad un aspetto simbolico, quindi è stata una rottura in qualche modo di un mito che ha disorientato, sapendo che tra l'altro i Krampus a volte hanno loro stessi delle manifestazioni che sono al limite dell'ecito, che però è sempre stato accettato. Ecco, quindi io credo che sia stata una notizia suggestiva, ma non oggettivamente preoccupante di un comportamento particolare da parte dei giovani. Dicevamo appunto che gli atteggiamenti di Krampus sono spesso atteggiamenti violenti, manifestati anche attraverso variazioni, eppure ogni giorno ai telegiornali, bambini, ragazzi assistono a atteggiamenti di varia natura, spesso violenti, pensiamo alle ultime notizie riguardo alla guerra. C'è forse quindi un problema di fondo con il modello culturale che abbiamo nella nostra società attualmente? No, io credo di no, che non sia un problema di tipo culturale, nel senso che rispetto al passato in generale, del passato remoto, ma anche il passato più prossimo, non è una società che veicola modelli più violenti. Il problema, lei ha parlato dei Krampus, lì la violenza è una violenza rappresentata, poi ripeto sul crinale a volte gli stessi Krampus, però è all'interno di un gioco, un gioco fatto da adulti. I bambini ad esempio attraverso il gioco esprimono le proprie pulsioni aggressive, ed è bene che le facciano. Questo è un aspetto che ad esempio i genitori devono tenere in considerazione, molti sono contro le pistole, contro gli armi, invece i bambini se hanno la possibilità di giocare entrano in contatto con questa parte della personalità e la neutralizzano. Diverso è l'esposizione dei bambini alle notizie, ad esempio del telegiornale o dei notiziari, in cui si parla di una violenza reale e agita. Queste sono ad esempio delle notizie che più il bambino è piccolo, meno strumenti ha per leggerli e interpretarli, più andrebbero aiutati nella comprensione, perché le visioni dei feriti di guerra, delle bombe, che non è un gioco, è la verità, ha un impatto sui bambini e sui giovani molto più importante. Rispetto a questo abbiamo parlato di modelli culturali anche non più violenti rispetto al passato, invece il disagio giovanile, la delinquenza giovanile, secondo lei si è modificata rispetto al passato, ci sono delle modifiche, è più violenta, c'è questa percezione che magari ci siano più casi, si diceva prima che invece la delinquenza sembra scendere, anche quella giovanile? Sì, anche quella giovanile rispetto al passato, però abbiamo, come lei giustamente dice, c'è un percepito, c'è una narrazione che sta trasferendo un messaggio che non corrisponde alla realtà. Non è vero che i giovani al giorno d'oggi sono più violenti di quelli del passato, anzi i ragazzi tendono a indirizzare, o perlomeno una fascia di ragazzi tendono a indirizzare l'aggressività verso di sé, cioè tutti quei comportamenti, disturbi alimentari, cutting, gli tagli, anche certe dipendenze, sono delle manifestazioni di aggressività che invece che essere esteriorizzate sono interiorizzate, questo è un dato molto, come dire, molto significativo. Può esserci una differenza nella manifestazione legata ad un altro tema con i giovani, che è quello della messa in discussione dell'autorità. Allora, ciò che gli insegnanti, gli educatori, gli adulti in generale raccontano come una trasformazione rispetto alle generazioni precedenti è che c'è meno timore e meno rispetto della figura autoritaria. Non è un attacco violento alla persona, viene da dire un attacco alla figura che è rappresentata dagli adulti, questo sì. Domanda semplicissima, ma di chi è la responsabilità? Cioè perché c'è questo attacco all'autorità e quali sono le responsabilità di istituzioni e scuola nello specifico? Guardi, io credo che questi temi così complessi richiedono un, come dire, un, ognuno si deve sentire responsabile per quello che è il suo ruolo, nessuno può chiamarsi fuori, la famiglia, le varie istituzioni, la scuola, fino alla dimensione politica. È una corresponsabilità, questo è importante perché questo significa che ognuno deve riflettere sul proprio ruolo, anche quello dei ragazzi, gli si deve chiedere il rispetto delle regole, ad esempio, e chi non le rispetta deve assumersi la responsabilità. Quel gioco della famiglia dice colpa della scuola, la scuola dice colpa degli insegnanti, poi sono la scolpa dei ragazzi, non ci porta da nessuna parte, dobbiamo proprio aprirci ad una riferizione. Sono cambiati i paradigmi delle relazioni sociali, questo sì. Parlando più nello specifico della figura genitoriale, del ruolo dei genitori nell'educazione, secondo lei è più marginale o è ancora uno spazio centrale? E quando sono proprio i genitori a trasmettere dei valori discutibili, come intervenire in quel caso? Ci sono delle modalità? Ma quello che avviene con la scuola obbligatoria, quindi il passaggio di generazioni intere di ragazzi per tanto tempo nella scuola, fa sì che l'ente educativo non sia più solamente la famiglia, c'è anche la scuola. Con questi ultimi cambiamenti, trasformazioni tecnologiche, culturali, quindi con l'uso dei dispositivi elettronici, lo smartphone, i social, possiamo dire che questo è il terzo polo di modelli identificatori, perché poi i modelli educativi li dobbiamo interpretare come sono dei modelli in cui i giovani si identificano. È evidente che la famiglia è molto importante nei primi anni di vita, nei primi dieci anni di vita è la famiglia e successivamente la scuola, ma soprattutto la famiglia. I modelli genitoriali e all'interno della famiglia rimangono i pilastri che poi permettono o non permettono di, come dire, navigare anche nel modello dei social, che ripeto è una cosa che ha reso molto più complesso. Punizioni, castighi, sberle educative, tra virgolette. C'è ancora chi invoca questo genere di scuola pedagogica? Cosa ne pensano riguardo? Mi verrebbe da dire riguardo alle sberle educative il male, cioè il peggio. Non ci sono sberle educative perché la sberla, che tra l'altro non è lo sculaccione, proprio la sberla è anche un'umiliazione per il bambino. Ci sta se è una tensione che si scarica, ma come metodo educativo posso pensare che è il peggio. Diverso è le regole, a volte anche le punizioni intese come delle restrizioni, come del non dare tutto ciò che il ragazzo chiede, delle regole del contenimento. Questo è un aspetto importante nell'educazione dei figli, cioè il pensare che la frustrazione, i no, fanno crescere, aiutano i giovani a contenere questa loro esuberanza, i loro desideri, i loro bisogni che in questa società, perché noi non dobbiamo dimenticarcelo, siamo in una società privilegiata, dell'opulenza, dove quasi tutti i desideri sono soddisfatti, il problema è anche contenerli dentro dei limiti cui i ragazzi devono riconoscere. Tornando un po' al tema generale di prima, come interpreta il fenomeno delle baby gang sotto un profilo psicologico e se ci sono dei bisogni adolescenziali a cui questo risponde? La baby gang risponde al bisogno adolescenziale che è quello del gruppo. Il contesto del gruppo ha una funzione regressiva, cioè nel gruppo si fanno delle cose che la gran maggioranza delle persone, quindi anche i ragazzi, non farebbero. Perché il gruppo dà da una parte forza, ci si identifica nel gruppo, scioglie un po' la responsabilità, non è solamente mia ma è anche degli altri e per i soggetti che sono indecisi si tende a fare delle cose che gli altri magari fanno con maggior semplicità, perché è più in sintonia con quello che loro sono e quindi possono fare delle cose che altrimenti non farebbero. Non mi risulta che le baby gang siano adesso più numerose di una volta. Può essere il social che favorisce il mettersi d'accordo del ritrovarsi. Quindi possiamo dire che se per baby gang si intende il ritrovarsi per combinare qualcosa che va poco più della Marachella alla vera e propria delinquenza, ecco, dobbiamo preoccuparci quando sono da un certo livello in su di comportamenti disadattivi e preoccupanti. Altrimenti il gruppo è il luogo in cui l'adolescente trasferisce la propria identità dal dentro la famiglia a un altro luogo identitario che è quello del gruppo. Che cosa ci rimane oggi? Beh, che il livello di sicurezza e la percezione che abbiamo di essa spesso non combaciano e anzi prendono direzioni inverse. Che c'è una crescente avversione nei confronti dell'autorità e soprattutto che la realtà è complessa. Istituzioni, scuola, famiglia e media giocano un ruolo e fanno la loro parte in maniera interconnessa nel bene e nel male.